Bentornati a un nuovo video dedicato a Infinity Magic Ride, negli scorsi mesi stavo iniziando una serie di video dedicati ai team che uso nei 6 dungeon nel cancello di Nibelungen, però nelle ultime settimane sono riuscito a creare un team che mi permetta di farmare tutti e 6 i dungeon, per cui in questo video vi voglio far vedere i cinque personaggi che sto usando nei 6 dungeon, le loro statistiche e come ho settato le loro skill ondata per ondata per ogni singolo dungeon, per cui iniziamo. Prima di tutto inizio subito col dirvi quali sono i personaggi che sto usando. Il team è costituito da Erato, Littlejack, Lidia, Murong, Jing e infine abbiamo Nicolas. Non è un team facilmente replicabile, non tanto nel senso che i miei personaggi hanno delle statistiche sovraumane, sono potentissimi, no, però avere tutti questi limited e portarli tutti all'esclusivo 3 ci vuole comunque un pochettino di tempo. Oltre al tempo bisogna anche un pochettino aprire il portafoglio per velocizzare il tutto. Iniziamo con Erato. Erato ha 1.160.000 punti vita, 2.055 di velocità e una maestria di 221, quasi. L'ho equipaggiata con due set costanza, mentre negli artefatti ho optato per maestria come statistica principale per il primo oggetto, HP sul secondo oggetto e velocità sull'ultimo oggetto. Ovviamente tutti quanti come sottostatistiche hanno maestria e HP e dove sono riuscito a mettere ho cercato anche un po' di velocità. Vediamo un attimino come non detto in realtà. Ecco qua, qua abbiamo un 30 velocità spurio, qui abbiamo un doppio rollo speed e poi ovviamente abbiamo il terzo artefatto che ha come statistica principale la speed. Andiamo a vedere l'icona. L'icona ovviamente uso la sua icona ed è livello 30 con un grado, con una stellina gialla, per cui per ogni livello di debuff attributo inflitto dal possessore si aumenta la maestria di un 4% per due turni fino al massimo di 8 volte. Che schifo non fa. Come aura sono andato a mettere l'aura di forza crescente quando la battaglia inizia aumenta la maestria di un più 30% inoltre questo bonus aumenta al 160% quando l'eroe ottiene scudo e visto che noi giochiamo con nicolas e nicolas mettono scudo, erato avrà un buon bonus alla maestria. Come benedizioni abbiamo due benedizioni che vanno ad aumentarmi l'hp, due benedizioni che aumentano il dannabilità e come terze ultime benedizioni ho messo un po' di tenacia per resistere un po' di più ai danni. Anzi vediamo un attimo se possiamo mettere qualcosina di un po' più forte. 3739 abbiamo questa che si può mettere al posto di questa qui abbiamo un 38 questo è un 39 niente va bene così. Come stemmi infine ho deciso di partire con un tasso decisivo più 4.5% a seguire i soliti stemmi fino ad arrivare al più 30% maestria dall'altro ramo, ramo supporto quindi tasso hp e via via tutti gli altri. E su erato non c'è nient'altro a dire. Ah come potete vedere l'ho fatta avanzare fino al grado 5 quindi è grado 5 livello 175. Spostiamoci ora al little jack. Little jack ha 690.000 punti hp, 60.000 di attacco, un 1930 di velocità e ben 295 di maestria. La maestria di questo personaggio mi piace molto mi è venuto abbastanza carino effettivamente. L'ho equipaggiato con un set maestria ed un set perforazione. A differenziato con lui sono andato a cercare tasso attacco e maestria. Qua abbiamo un 4 roll su maestria questo pezzo in realtà non è che sia spettacolare però ha maestria un doppio roll attacco e un minimo di speed. quindi vediamo un po' se abbiamo qualcosa del set. No. Niente perché qui abbiamo un maestria e doppio attacco. Nulla da fare. Stivali anche qua quindi velocità passo attacco doppia maestria, l'anellino spettacolare, l'anello mi piace da morire, doppio roll maestria, triple roll passo attacco. Per quanto riguarda invece i 3 artefatti abbiamo sempre statistica principale maestria per il primo, attacco per il secondo e attacco anche per il terzo. Volendo questo qua si potrebbe studiare tranquillamente con un oggetto che li ha ancora di più velocità per far fare più turni possibili al nostro little jack. Abbiamo un attimino l'icona ho messo la sua icona che è una stellina livello 30. Come aura gli ho messo quest'aura epica che gli aumenta la maestria di un più 18 per cento. Benedizioni. Allora sono andato come prima benedizioni sono andato a aumentargli gli HP per aumentare la sua resistenza. Poi abbiamo doppia benedizione sulla maestria e anche lui finisce con doppia benedizione sulla tenacia. Per quanto riguarda gli stemmi sono come erato con la differenza che il suo primo stem nel ramo attacco è ovviamente attacco più 6 per cento. Anche il little jack come per erato è grado 5 di avanzamento ed è al livello 175. Spostiamoci ora su Lidia. Lidia ha 640.000 di HP circa, 57.500 di attacco, 100 per cento di tasso decisivo si può dire, un 343 di danno decisivo e 88 per 100 di efficacia effetto. Anche l'idea è venuta abbastanza veloce. Siamo sui 2117. L'ho equipaggiata con un set decisivo ed un set danno decisivo. Andando a cercare come sotto statistiche tasto decisivo, danno decisivo, attacco, velocità e dove è possibile qualche punto in più di efficacia effetto. Sull'arma abbiamo triple roll tasto decisivo, abbiamo tasto attacco e abbiamo un roll danno decisivo. L'armatura ha un quad roll su tasso attacco, velocità, efficacia e danno decisivo. Lo stivale fa abbastanza schifo, perché lo stivale fa schifo effettivamente. Abbiamo qualcosa di meglio? di che set era? Qua. Però mi serve con danno decisivo. Tasto attacco. Avremmo questo, avremmo volendo. Ho anche questo. però vado a perdere poi 72 di speed. No, per ora lo lasciamo così. Lo lasciamo in questo modo per ora. Infine abbiamo doppio roll danno decisivo, un po' di speed e un po' di HP. Per quanto riguarda gli artefatti invece abbiamo statistica principale danno decisivo, il secondo oggetto statistica principale attacco, il terzo oggetto invece gli ho dato velocità. Sempre come sotto statistiche sono andato a ricercare anche per i tre artefatti danno decisivo, tasso decisivo, velocità se possibile ed efficacia effetto. Per quanto riguarda l'icona anche lei ha la propria icona che è di un grado, livello 30. Come aura sono andato a mettere l'aura avanguardia del combattimento, infligge danno profondo ai bersagli colpiti per un turno quando si infligge un danno diretto, aumentando il suo danno subito di 36%. Ogni bersaglio può avere un solo livello di danno profondo alla volta. Con questa aura mi trovo molto bene e devo ancora finirla, sono solo al livello 26 di 30. Benedizioni. Allora, sono andato come prime benedizioni a mettere una doppia benedizione di efficace effetto, poi abbiamo una doppia benedizione di bonus al danno diretto. Per finire anche con lei doppia benedizione sulla tenacia. Per quanto riguarda invece gli stemmi, partiamo subito con un più 6% di attacco per andare poi a terminare con il danno decisivo. Sullo ramo supporto... perché non ho messo questa? No, quasi quasi io la cambierei in realtà. Allora diciamo che non è sbagliato mettere efficace effetto, se la si usa molto anche in arena, quindi ci potrebbe stare. Se la si usa invece più lato pve, mi sento più di consigliare un HP percentuale in realtà. Quindi la tengo così per ora, però non è detto che in futuro vada a sguicciare dal efficace effetto e vado a mettergli un HP percentuale. anche lei è grado 5 di avanzamento, livello 175. Murang Jing, ultimo limited che hanno inserito in gioco, purtroppo è l'unico dei 5 limited che vado ad usare in questo team che non è esclusivo 3. Non essendo esclusivo 3 vado a perdere un po' di danno per la sua a3. Anche lui, come potete vedere, è grado 5 avanzamento e solo livello 170 su 175. Io piano piano, giornalmente, gli sto aumentando il livello. L'ho equipaggiato con doppio set maestria e le sue statistiche sono 726.000 di HP, 58.500 di difesa, 1900 di speed e 212 di maestria. A lui bisogna dare un minimo di prosciugamento, come vi ho già detto nel video che ho dedicato interamente a lui. Io ho dato 12 di prosciugamento e sull'equipaggiamento ci torno dopo a questo punto, per un semplice motivo. Ho voluto fullare la sua icona. È livello 5, quindi a 5 gradi, livello 30. L'ho voluta fullare, quindi sono andato a convertirmi tutti i desideri eccelsi, a convertire tutte le gemme che trovavo nelle due settimane in cui era possibile trovare questa icona nei desideri icona perché farla al grado 5 mi permetteva di aumentare il prosciugamento di Murojing di questo 28 per cento che mi serviva assolutamente perché con questo 28 per cento col fatto che lui di AU di esclusivo 1 si aumenta di un ulteriore 30 per cento il prosciugamento sommato a questo più 7 per cento di benedizione arriva al 70 per cento di prosciugamento che è il prosciugamento massimo che possiamo attribuire a questo campione. Quindi fatto questo piccolo riepilogo su Murojing, l'equipaggiamento, quindi sono andato a cercare equipaggiamento con maestria e tasso difesa perché lui scala su difesa, quindi abbiamo qui un triple roll tasso difesa e un roll maestria, qui abbiamo un quadrollo tasso difesa e abbiamo anche qui un po' di maestria, stivale anche questo quadrollo difesa e un po' di maestria, anello anche qui triple roll difesa, questo oggetto purtroppo non ha maestria. Vediamo un po' se riusciamo, vediamo un po' poca difesa, no, 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 questi sono poi rari, quindi niente, va bene, l'anello resta questo, resta. Per quanto riguarda invece tre artefatti, artefatto numero uno, statistica principale, come al solito, maestria, il secondo artefatto difesa, il terzo artefatto ovviamente velocità. Vista l'icona spostiamoci sull'aura, come aura gli ho dato, aura della versatilità, l'ho fatta grado 1 ed è a livello 21, piano piano sto cercando di portarla a livello 30 in questo momento, mi sto concentrando solo su di lui nella fazione. Cosa fa questa aura qui? Aumenta il dannabilità di un 10%, allo stesso tempo aumenta il bonus dannabilità e la riduzione del dannabilità di un 15% in totale. Maggiore sono gli HP, maggiore è il bonus dannabilità, minore sono gli HP, maggiore è la resistenza al dannabilità. Questa l'ho presa giusto perché ho voluto fare dei test, però alla fine sono rimasto con laura della versatilità. Benedizioni, ho messo una doppia speed, un prosciugamento e un bonus danno interno. Anzi, vediamo se abbiamo trovato qualcosa di meglio in queste ultime settimane. qui abbiamo un 8.4, no, decisamente no. Va bene, quindi ci teniamo questa e alla fine ovviamente abbiamo un tasso difesa, un doppio tasso difesa anzi, percentuale bassissime di queste due benedizioni, ma attualmente non ho di meglio, o meglio, scusate il gioco di parole, avrei di meglio, però non gliele voglio togliere. Queste qui restano qui, restano almeno per il momento. Sì, non abbiamo nulla di meglio, basta, e quindi resta così, anche perché per ora il suo lo fa Murong Jing. Per quanto riguarda gli stemmi, invece, sul ramo attacco, visto che lui scala su difesa, mettergli questo attacco percentuale non aveva senso, ho preferito mettergli un tasso decisivo. Magari ogni tanto gli scappa qualche critico e mi fa qualche danno in più. Concludiamo con maestria, come al solito, mentre sul ramo supporto partiamo di tasso HP. Infine abbiamo Nicolas. Nicolas con 700.000 di HP, 41.000 di difesa, 128 di efficace effetto e 2651 di velocità. vestito con doppio set soccorso. Anche lui, no, non è spettacolare. Cioè, sugli equipaggiamenti, quelli non farmabili, il mio account fa abbastanza schifo. Quindi ho cercato di mettergli il meglio che potevo offrirgli. Abbiamo sull'arma un roll velocità e un roll difesa. L'armatura, come potete vedere? Cioè, armatura e arma sono oggetti a 5 stelle, quindi vi lascio immaginare. Comunque, l'armatura doppia, doppio roll su velocità. Lo stivale, vabbè, neanche lo commento. Lo stivale, anello, doppio roll speed. Per quanto riguarda i tre artefatti, invece, primo artefatto, statistica principale HP. Secondo artefatto, statistica principale efficace effetto. Ultimo artefatto, abbiamo statistica principale velocità. Mentre registravo, sto vedendo questo stivaretto qui, che non è male. Doppio roll HP è doppio roll efficace effetto. Ci sta. Quindi io vi dico che questo cambio, lo faccio. Tanto in termini di speed non mi cambia nulla. Quindi va bene così. Ok. Fatta questa modifica live, anche lui, anzi, lui no, attenzione. Lui è come grado di avanzamento soltanto al 2. Piano piano sto cercando adesso di concentrarmi su di lui per portarlo al grado 5. Grado 3 è prossimo, però. Ci siamo quasi, dai. Come icona, ovviamente, ha la sua icona di grado 2, livello 0. Perché comunque aumentargli la resistenza in questo momento del gioco a me non mi interessa. Come aura, gli ho messo un'aura epica. Aura, corno del recupero. Ripristina dei HP di tutti gli alleati del 9% dei propri HP massimi, dopo aver lanciato un'abilità attiva. Come benedizioni abbiamo messo un doppio colpo congelante. Nelle seconde benedizioni non ho voluto mettere nulla. Terza benedizione ho messo effetto di cura ricevuta e tenacia. Perché tenacia va sempre bene. Come stemmi, invece, questa volta sono andato sul ramo difesa e il ramo supporto. Parto con l'HP per arrivare a prendere questo bellissimo più 75 velocità. Fatta questa panoramica su come ho equipaggiato i 5 eroi che vado ad usare nel cancello di Nibelungen, andiamo a vederli dungeon per dungeon. E partiamo da Efret. Allora, vabbè, qui abbiamo i vecchi team. Qui in fondo, invece, abbiamo i team, o meglio dire, il team che uso per i Sai Dungeon. Partiamo da Efret. Quello che voglio farvi vedere è, ondata per ondata, come e se ho settato i vari personaggi. Partiamo da Little Jack. Ondata 1, niente, ondata 2, niente, ondata 3, nulla. Murong Jing. Niente ondata 1, niente ondata 2, niente ondata 3. Nicolas. Nicolas l'ho settato con non deve farmi la sua A3 e deve fare solo una volta la sua A2. Nell'ondata 2 mi fa una volta la A3, quindi parte subito a congelare l'ondata avversaria. Ondata 3, non ho settato nulla. Erato. Non ho settato nulla nella prima ondata. Non ho settato nulla nella seconda ondata. Non ho settato nulla nella terza ondata. Anche se in realtà nella terza ondata potremmo settare questo e poi così. E salviamo. Infine abbiamo Lidia. Niente settaggi per la prima ondata. Niente settaggi per la seconda ondata. Nella terza ondata gli do priorità 1 alla sua A2 e andiamo a vedere in azione il team. Allora, qui Nicolas non andrà a congelare e andiamo a vedere il perché. Parte Lidia. Parte Nicolas di A2, quindi metterà lo scudo e ci darà anche un buff sulla velocità. Riparte Lidia. E poi partono i nostri DPS. Quindi Erato. Little Jack. Murong Jing. Poi parte Erato. è la prima ondata. In sei turni ci saluta. Nella seconda ondata invece abbiamo Lidia. Nicolas che congela. E poi tutti gli altri a ruota fanno quello che devono fare. E anche la seconda ondata in qualche turno ci dice addio. Ok. Parti Erato. E l'ondata l'abbiamo sciolta. 29 turni. Arriviamo sul boss. Congela subito Nicolas. Benissimo. Uccisi due minion. Ci resta solo il boss che sarà molto facile. Efret probabilmente tra i sei boss è quello più facile da affrontare. meno di 100 turni e il boss Efret ci saluta. Anzi meno di 80 molto probabilmente. Vediamo un po'. meno di 80 turni. Perfetti. Bravi ragazzi. Ed ecco qui il primo boss che cade usando questo team. e adesso ci spostiamo su Gwyneth. Anche qui su Gwyneth usiamo sempre lo stesso team. Andiamo a vedere come ho settato però i personaggi. Allora Little Jack sulla prima ondata mi fa una volta solo la sua 2 e la su a 3. Nella seconda ondata fa quello che vuole. Terza ondata lo stesso. Murong Jing mi parte di a2 e la 2 me la deve fare solo una volta così come anche la 3. Ondata a2 mi parte di a2. Ondata a3 fa quello che vuole. Nicolas mi fa una volta sia la 2 che la 3 nella prima ondata. Nella seconda ondata invece mi fa solo una volta la sua a3. Nella terza e ultima ondata fa quello che vuole. Erato ondata a1 e ondata a2 nessun set di skill. Ondata a3 ho dato priorità alla sua a2. Perfetto. Lidia abbiamo che nella prima ondata mi deve fare una volta la sua a2 e la sua a3. Nella seconda ondata può fare quello che vuole. Terza ondata priorità alla sua a2. Salviamo giusto per vedere giusto per sicurezza. Quindi abbiamo Winnet e andiamo subito a vedere in azione il team. Avviamo la battaglia. Cacciamo subito l'automatico. Allora su Winnet come già detto nel video dedicato solo la Winnet. Nella prima ondata abbiamo Pauline. Quindi Nicolas non ha senso che parti di a3. Mi conviene più che parti di a2. Per cui vediamo un attimino. Lidia fa quello che deve fare. Abbiamo subito Nicolas che quindi... Perfetto. Non l'ho settato bene. Nicolas sarebbe cosa più giusta che partisse di a2. Però proseguiamo lo stesso. Tutti gli altri fanno cose. Lidia non crepare. Ok. Perfetto. Parte erato. Arrivederci. Grazie. Quindi una modifica che mi sento di fare adesso. Finita questa run la vado a fare subito la modifica. Perché Nicolas non ha senso che parti di a3. Lo faccio partire di a2. Seconda ondata va bene. Nulla di particolare. Nessun nemico difficile o problematico. Nicolas scongela tutti. E gli altri 3 dps vanno via. Allora. Sul boss invece potremmo avere qualche difficoltà. Col fatto che dalla parte opposta abbiamo luna. Che cleansa e mette anche quella rigenerazione. Però i due minion ci salutano. Rimane solo il boss. Siamo a 65 turni. e dovrebbe andare anche questo qua. Abbastanza easy. Sì dai. E anche Gwyneth con questo team ci saluta. Ecco. Oh doppio leggendario. vediamo un po'. Questo fa schifo. E questo fa schifo pure. Perfetto. Ci piace. E allora facciamo giusto una modifica. Facciamo giusto una modifica. Perché visto che abbiamo il panda direi di fare questa modifica qui. Per cui voglio rifare. Voglio. E adesso modificato Nicolas. Voglio riprovare. Quindi. Rientriamo in battaglia. Facciamo direttamente automatico. Senza andare a togliere e mettere. Quindi. Nicolas. Mi mette lo scudo. Il panda cleansa. Noi facciamo un po' di danni. Così. Visto che prima Lidia era lì lì per morire. Almeno così abbiamo più tranquillità che non crepa nessuno. Vabbè. 15 turni. La prima ondata ci saluta. Ora qui potrebbe esserci il problema che Nicolas non congeli. E infatti così è stato. E no. Non va bene. Vediamo un attimino se comunque lo portiamo a termine. In realtà potrei fare un'altra cosa ancora. Potrei fare. Forza comunque il boss scende giù. Forza. O forza no. Forza. Ok. Fino al 50% ci siamo arrivati. Vabbè. Il boss scende giù con lo stesso. Ok. Un po' più lenti però. Scende giù con lo stesso. Voglio però fare una modifica ancora. Dammi qua. Winet. Facciamo che il panda. La sua A3 nella prima ondata non me la fa proprio. Fai così. Riproviamo di nuovo. Così andiamo a ottimizzare ancora di più il team. Forza. Fai erato. Parti dai. Ok. Ci sta. Così adesso il panda mi congela tutti. A posto. Così nella seconda ondata Lidia non mi va a crepare. Noi siamo sicuri che la passiamo tranquillamente. E il boss poi scenderà giù. Senza troppi problemi. Dai. Seconda ondata fatta pure. Trenzette turni. Siamo sul boss. Nicolò si è partito pure di A3 è partito. Cioè di meglio non si poteva avere. Vai uccidete quella luna. Ah finalmente. Ok. Anche in questo caso meno di 100 turni. E il boss ci saluta. E questo qua quindi è il team per Winnet. Schifo anche questo. Schifo anche questo. Va bene. Non siamo fortunatissimi con il drop. Spostiamoci adesso su Room. Andiamo subito a selezionare il team che usiamo. E andiamo a vedere un po' come ho settato le skill. Per Little Jack ondata 1, 2, ondata 3. Non ho settato nulla. Per quanto riguarda Murang Jing. Ondata 1, ondata 2, nulla. Ondata 3 lo stesso. Nicolas mi deve fare solo una volta la sua A3. Sia nella prima che in seconda ondata. Terza ondata invece fa quello che vuole. Per quanto riguarda erato. Ondata 1, ondata 2, liscio. Ondata 3. Gli diamo sempre qua la priorità. E questa cosa non l'ho mai fatta. Ok. La facciamo adesso. Quindi. Priorità sulla sua A2. Ma parte di A3. Infine abbiamo Lydia. Ondata 1, ondata 2, nulla. Ondata 3. No. Dobbiamo fare qua la priorità alla sua A2. Ok. Quindi. Abbiamo selezionato il team per Room. E avviamo la battaglia. Prima ondata team avversario classico. Non abbiamo il Panda. Per cui. Via. Congeliamo. Facciamo i danni. Reggiamo. Un po' di danno. Ok. Nicolas non ha avuto nemmeno il tempo di mettere la sua A2. E la sua A2 me la trovo già per la terza, per la seconda ondata. Me la trovo invece. Qua reggiamo un po' di botte. Dai. A posto. Morto pure la seconda ondata. Ah, peccato per quel congelamento. Quel doppio congelamento di Nicolas non andava fatto. Vabbè, però qua partiamo subito di congelamento e anche qua con Nicolas. Qui c'è lui che è un po' disgraziato. Il minion di sinistra. Questo qua potrebbe fregarci i buff. Potrebbe fregarci. Quindi bisogna stare un po' attenti a questo. Però poi per il resto, boss, anche questo. Easy. Siamo a 50 turni addirittura già. Non vedo l'ora che mettano Murong Jing con i desideri classici, definiamoli così, per farlo esclusivo 3. Uuuuh, doppio speed. Schifo. E niente speed. Va bene. Quindi anche Rum. Fase 40. 72 turni. Ci lo facciamo a partire da casa con questo bellissimo team. Spostiamoci su Neggia. Andiamo a selezionare sempre il nostro team. E andiamo a vedere. Little Jack, come sempre, è andata 1, 2, 3. Nessuna skill settata. Murong Jing, stessa cosa. È andata 1, 2, 3. Niente. Nicolás mi parte di A2 e fa solo una volta la sua A3 nella prima ondata. Seconda ondata mi fa solo una volta la sua A3. Terza ondata fa quello che vuole. Erato. Ondata 1, 2, 0. Ondata 3. O me lo sapete. Andiamo a fare questi settaggi qua per la sua A3 e per la sua A2. Infine Lidia. Ondata 1, 2, 0. Ondata 3. Abbiamo settato, abbiamo dato la priorità alla sua A3. Quindi salviamo. E andiamo a vedere il combattimento. Allora, anche qui. Allora, ritorna il panda nella prima ondata. Per cui se ho settato bene, Nicolas dovrebbe partire di scudo. Vediamo un po'. No, parte comunque di congelamento. Quindi c'è qualcosa poi per la seconda ondata. Eh, Lidia però rischia sempre di che pare, rischia. Rischia di che pare, però la prima ondata ce la siamo portata a casa. Il panda è un... Quanto è rognoso il panda nelle ondate in PvE. Mamma mia. Allora, la seconda ondata, ci può dire che già ci siamo portata a casa. La seconda ondata, manca poco. 44 turni e siamo da boss. Attenzione. Non dovremmo avere grossi problemi nemmeno con troneggia. Eh, i danni però li fa. Ma noi abbiamo il nostro bellissimo Nicolas che ci viene in soccorso. Ci fulla gli HP. Ah, abbiamo perso Little Jack. Interessante. Com'è successa questa cosa? Riusciamo comunque a portarcelo a casa? Sì. È strano che sia... Ma ho capito come ha fatto a morire. Voglio rivedere poi il registrato. È possibile che non avesse la mela di Nicolas? Strano. Anche perché poi è andata liscia. Non lo so. Onestamente, la morte di Nicolas, la morte di Little Jack, mi ha sorpreso e non poco. Devo essere sincero. Vabbè. Però, anche Nedja con questo team ci siamo portati a casa. Andiamo ora su Graulen. Quindi fase 40. Tra l'altro di Graulen è finito da poco il suo torneo. E ovviamente l'ho formato con questo team qui. Allora, andiamo a vedere un attimino... Dov'è? L'ho sbagliato. Andiamo a vedere le skill. Little Jack. Qui gli ho settato la sua A3 che venga effettuata solo. Partiamo con Little Jack. Deve farmi solo una volta la sua A3 nella prima ondata. Seconda. Terza ondata. Fa quello che vuole. Murang Jing mi parte di A2 e me la deve fare al massimo due volte. Seconda ondata. Stessa cosa. Terza ondata. Priorità alla sua. Terza ondata. Priorità alla sua A2. Nicolás mi parte di A2 e la fa solo una volta così come anche la sua A3. Seconda ondata invece mi fa due volte la A3 e solo una volta la A2. Terza ondata come vuole. Erato ondata 1 e la sua ondata non fa nulla. Per quanto riguarda Erato ondata 1 non fa nulla. Ondata 2. Settato che deve fare solo una volta la sua A2. Anzi la sua A3. Terza ondata. Priorità alla sua A2. Infine abbiamo Lydia che parte di A2. Sia in prima che in seconda ondata. Terza ondata stessa cosa. Priorità alla sua A2. Quindi salviamo. E andiamo a vederne il funzionamento. Sacate fatti piene. Perfetto. Dammi qui. Andiamo a vendere. Allora iniziamo a cacciarci questa roba qui. Via. A posto. Vai. Battaglia. Quindi parte Lydia. Nicholas ci mettiamo lo scudo. Torna Lydia di nuovo. I danni di Erato. Little Jack. E ci mettiamo in protezione con Murong Jing. Perfetto. Poi congeliamo. E iniziamo a fare i danni. Ondata 1. 21 turni. Ci saluta. Seconda ondata. Congeliamo subito con Nicholas. e come potete vedere la seconda ondata non manca poco per finirla. Ecco qua. E' partito anche Murong Jing. Ritorna Erato. E via. 42 turni. E ci troviamo sul boss. Il boss è un po' più... Questo è un boss erognoso. non tanto per il boss in sé, ma per quanto riguarda Katerin. Beh, Katerin è quasi morta pure, quindi non metterà il controattacco. Perfetto. Ah, eliminate quell'altra. Perfetto. Questo team, non capisco il perché, ma ogni tanto, ma veramente ogni tanto, una battaglia la perde. Random. Non riesco a capire cosa può andare storto. Non capisco nemmeno se perde nelle ondate o se perde durante l'ultima fase contro il boss. Però diciamo che è sicuro questo team contro Graulen. Non dico 99%, dico 98% dico però. E' un po' più lento. Non ci mettiamo oltre i 100 turni, ci mettiamo. Però... Anche Graulen scende giù alla velocità della luce. 115 turni. Non ci lamentiamo. Vediamo cosa ci ha dato. Ah, accettabile. Lo teniamo. Quindi, Graulen è andato pure. Ci rimane Marius. Quindi, anche con Marius andiamo a selezionare il nostro bellissimo preset. Little Jack. Ondata 1 mi fa una volta la sua 2 e la sua 3. Seconda, terza ondata, non fa nulla. Per quanto riguarda Muronging, non gli ho settato nulla. Nessuna delle tre ondate. Nicolas mi fa due volte la sua 2 e la sua 3 nella prima ondata. Nella seconda ondata mi fa due volte la sua 2. Terza ondata fa quello che vuole. Per quanto riguarda Erato, ho settato che inizi con la sua 3, ovviamente, e poi ho dato priorità alla sua A2. Stessa cosa per la seconda ondata e anche per la terza ondata. Infine, Lidia. Prima e seconda ondata non ho settato nulla. Terza ondata ho dato priorità alla sua A2. Salviamo giusto per sicurezza. Andiamo a vedere la battaglia. Quindi, prima ondata con Nicolas, congeliamo subito, esatto. Marius su tra i 6 è quello che mi crea qualche problema ancora. Vediamo se questa run va bene. Sì. Ok, la prima ondata è liscia. Andiamo alla seconda ondata. Aia, Nicolas è sottonato? No, come non ho detto. Lidia, Reggi, non crepare. Ok. Ammazzate nasella. Perfetto. Boss. Qui ritorna Luna, purtroppo. E non è una bella cosa. Però la congeliamo e ci piace. Ok. Ammazzate Luna, perfetto. Vediamo un po' come si comporta il team. Ok. Vai, Rato, parti. Fai danno. Bravo. Vai, vai. Secondo me, su Marius è dove il mio team sente di più la mancanza dell'esclusivo 3 di Mu Rongjing. Perché lui fa effettivamente pochi danni senza quell'esclusivo 3. Però, come avete visto, 140 turni. Non è un team velocissimo. Però anche con Marius questo team funziona. Non è un team facilmente replicabile. Non tanto per le statistiche che hanno i miei personaggi. Ci tengo a precisarlo nuovamente. Ma solo per il fatto che sono tutti quanti eroi limited. E servono a tutti quanti almeno l'esclusivo 3. Quindi, solo per questo è un team difficile da riproporre. Però, se avete questi campioni, questa magari potrebbe essere un'idea per buildare, quindi, nel miglior modo possibile, questi 5 campioni. Settare le varie skill in base alle statistiche che hanno i vostri 5 personaggi e farmare così facilmente, tra mille virgolette, le fasi 40 di questi 6 dungeon. Per cui, spero che il video vi possa essere in qualche modo utile. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Grazie.